C'è il gruppo Carabinieri Forestale di Salerno a vigilare da oggi sul rispetto dei 5 divieti che la Regione Campania e la Protezione Civile hanno ribadito in occasione dell'avvio del periodo considerato di massima pericolosità in un territorio, quello della Regione Campania e della provincia di Salerno, fortemente interessati dal fenomeno degli incendi boschivi. Agli ordini del colonnello Maria Gabriella Martino, il gruppo della Forestale di Salerno è pronto ad intervenire e a individuare anche gli eventuali responsabili, come già fatto negli anni precedenti quando attraverso precise indagini furono incastrati i piromani che avevano distrutto il bosco del Saretto a Sarno. C'è una mappa delle zone che voi considerate più a rischio? Sì, negli anni abbiamo chiaramente studiato il fenomeno e quindi la statistica degli eventi ci dice che nella provincia di Salerno, che è la provincia più interessata da questo fenomeno sia della Regione Campania ma è la seconda in Italia, l'analisi statistica ci dice che in provincia di Salerno è la zona nord, cioè l'agro sarnese, e la zona sud, in particolare la costa cilentana. Come viene svolta l'indagine? Con quali mezzi? Allora, i carabinieri forestali intervengono nello scenario che è uno scenario proprio del crimine e al di là della investigazione classica abbinano un metodo scientifico che è il metodo detto delle evidenze fisiche, cioè si studia il percorso del fuoco, le tracce che il fuoco lascia sul territorio, sulle cortecce degli alberi, sulle pietre, su ogni oggetto, si ripercorre a ritroso il percorso dell'incendio quindi studiando in base al vento, alla topografia del territorio, alle superfici, a quello che si sta bruciando si ripercorre il percorso del fuoco fino ad arrivare al punto di innesco studiando il quale, se con ordigno incendiario o per accensione diretta, studiando il punto di innesco si può risalire all'incendiario. C'è un appello in particolare che possiamo rivolgere alla luce appunto di questo avvio di periodo pericoloso? Proprio in questo decreto di grave pericolosità sono indicati una serie di divieti e di obblighi a cui dobbiamo attenerci. Divieti e obblighi che sono contemplati anche in molte ordinanze dei singoli comuni. I divieti sono i classici, i divieti di accensione dei residui vegetali che è la pratica più diffusa, i divieti di accensione delle soppie, il divieto di accensione di fuochi a una distanza inferiore ai 100 metri o addirittura quelli fuochi di artificio a una distanza inferiore da un chilometro dal bosco. E una serie di obblighi, obblighi per i proprietari delle aree boscate di creare delle fasce prive di vegetazione per evitare l'innesco degli incendi. Tutti gli accorgimenti necessari a evitare l'innesco e il propagarsi delle fiamme. C'è anche qualcosa che possono fare i cittadini per aiutare il lavoro della forestale, nella prevenzione ma anche nella segnalazione? Ecco appunto ai primi segnali di fumo innanzitutto c'è un numero verde, il 1515 e la sala operativa provinciale della regione Campania, la Sopi. Quindi con questi due riferimenti viene segnalato l'inizio del fuoco ed è importantissimo perché in questo tipo di evento la velocità e l'immediatezza di intervento può cambiare notevolmente l'evolversi.